Il primo attacco di Rommel ad El Alamein era stato respinto, ma l'ACIT, acronimo di Armata Corazzata Italo-Tedesca, si stava rinforzando come pure i suoi avversari britannici. Rommel era preoccupato della possibilità che gli inglesi ottenessero una schiacciante superiorità per via della loro più efficiente catena logistica che gli avrebbe fornito 150.000 tonnellate di materiale agli inizi di settembre. Sul fronte britannico il comando dell'ottava armata fu affidato a Bernard Montgomery, un generale con una chiara idea di come dovesse essere svolta la guerra. Egli infatti credeva che i britannici avrebbero dovuto conseguire una schiacciante superiorità di uomini e mezzi e solo allora sarebbero dovuti passare all'attacco. Inoltre desiderava che le proprie truppe avessero combattuto come unità divisionali, superando il sistema delle brigate precedentemente adottato. Da quando la prima battaglia di El Alamell si era conclusa, entrambi gli schieramenti avevano organizzato le proprie difese dietro ad estesi campi minati. Montgomery, come già Auchinleck a suo tempo, sospettava che qualora Rommel avesse tentato un attacco fosse il settore meridionale quello più esposto, anche per via della maggiore estensione dei campi minati inglesi a nord. Montgomery decise così di schierare il proprio esercito con la nona divisione australiana a difesa della zona costiera, più a sud la prima divisione sudafricana e la quinta indiana a difendere la zona del Ruvaysad Ridge. Dietro a loro in riserva la ventitresima brigata corazzata. A sud del Ruvaysad fu disposta la seconda divisione neozelandese e la settima divisione corazzata, con la decima divisione corazzata in riserva. Alla fine di agosto l'ACIT contava 443 carri armati operativi, ma di questi 243 erano gli inferiori carri italiani della serie M. Rommel doveva attaccare e pianificò una manovra avvolgente da sud, con le unità corazzate che avrebbero dovuto dirigersi verso l'Alam Alpha, a girare la collina da est ed a cerchiare l'ottava armata per dirigersi poi verso il Cairo. Purtroppo per Rommel gli inglesi, attraverso il loro servizio segreto, erano stati avvertiti dei piani avversari. Altro problema erano le scorte di carburante, che sarebbero bastate all'ACIT per soli quattro giorni di offensiva. Il destino della volpe del deserto era appeso ad un filo, come pure la sua salute fisica e mentale, che stava risentendo dei mesi di stress. I britannici disponevano di circa 700 carri armati e di una netta superiorità aerea. Montgomery aveva dato ordine alle truppe a sud del Rubei Sad Ridge, in caso di scontri con le truppe dell'Asse, di ritirarsi verso l'Alam Alpha, dove i britannici intendevano arrestare l'ACIT per poi contrattaccare dal settore neozelandese. La sera del 30 agosto partì l'offensiva italo-tedesca, che ben presto si arrenò sui campi minati britannici, non essendo stati molti di questi individuati preventivamente. Ancora alle 4 di mattina del 31 agosto le truppe mobili dell'ACIT erano bloccate. L'attacco sembrava sul punto di fallire, ancora prima di aver sparato un solo colpo, quando alle 7 di mattina Rommel fu informato che le sue divisioni corazzate si erano liberate dai campi minati. Considerando il ritardo sulla tabella di marcia, Rommel ordinò di puntare ad attaccare la zona ad ovest dell'Alam Alpha, piuttosto che quella ad est, come pianificato in origine. Intorno alle 18, la ventunesima divisione tedesca si scontrò con la ventiduesima brigata corazzata inglese. Il ventesimo corpo italiano intanto arrancava e a sera gli fu ordinato di mettersi sulla difensiva, in vista di un contrattacco britannico, mentre le divisioni tedesche corazzate avrebbero proseguito l'avanzata. Il primo settembre Montgomery contrattaccò a nord verso Tel El Eysa con la divisione australiana, ma questi furono raspinti. Le divisioni corazzate tedesche a sud però erano rimaste senza carburante e non riuscivano a coordinare un attacco efficace. Inoltre i continui attacchi della Desert Air Force non permettevano ai soldati di Rommel di riposarsi adeguatamente. Rommel ordinò alla Ariete di ritirarsi nelle retrovie e dalla Trieste di sostituirla, mentre la quindicesima tentò un assalto all'Alam Alpha. Intanto lungo le coste libiche gli inglesi affondavano irrimediabilmente le navi cisterna che portavano il carburante per le truppe di Rommel, che il 2 settembre decise di ritirare il suo esercito. Il 3 settembre la Desert Air Force raggiunse il picco di 2.700 missioni e nella notte tra il 3 e il 4 settembre Montgomery fece scattare l'operazione Beresford, con la 132esima brigata e la divisione neozelandese. Il 4 settembre i neozelandesi furono raspinti e le divisioni corazzate italiane e tedesche poterono ritirarsi senza perdite oltre le proprie linee difensive. La battaglia costò agli italiani circa 1.000 caduti e ai tedeschi 1.800, mentre i britannici, che avevano tenuto per quasi tutta l'offensiva italo-tedesca un atteggiamento difensivo, persero circa 1.700 uomini. Il dato più significativo fu la perdita di mezzi corazzati, che vedeva l'asse lasciare sul campo 49 carri armati, mentre i britannici ne persero 67. In questa battaglia, per la prima volta, le due armate subirono circa le stesse perdite in mezzi corazzati, quando nelle precedenti battaglie la superiorità operativa tedesca determinò un numero di corazzati distrutti ai britannici nettamente superiore a quelli persi da Rommel. La battaglia dell'Alam Alfa era terminata e le due armate ricostituivano le loro forze al riparo dei loro rispettivi sistemi difensivi. L'equilibrio degli eventi era contro Rommel. Gli britannici e gli americani stavano infatti progettando una serie di sbarchi in Algeria e Marocco per prendere alle spalle le truppe dell'armata corazzata italo-tedesca, mentre Rommel, bloccato a Della Alamein con un esercito stanco e provato dalla dura vita del deserto, si trovava a dover affrontare un nemico padrone dell'area, i cui uomini potevano godere di giornate di riposo nelle principali città egiziane e che disponeva di un'efficiente catena logistica. I giorni di gloria della volpe del deserto erano giunti alla fine e sulle sabbie del deserto cominciava a brillare la stella di Bernard Montgomery.